Ricordatevi una cosa che è fondamentale, anche se non c'è rispetto artistico per l'artista per cui state lavorando, nel momento che lui esprime l'arte è lui che comanda, lì dovete dare il massimo del rispetto perché lui, l'artista, in quel momento si gioca tutto, tutta la credibilità, lui in quel momento dà tutto di sé, deve cercare di dare il meglio di sé e il suo lavoro, la sua espressione è solo lì, figurate quando fate un festival che magari fa 3-4 pezzi, lui deve riuscire a dare il meglio perché c'è anche poi un confronto tra uno e l'altro e lì dovete cercare di fare in modo che lui stia al meglio.